Gara priva di particolari significati tra San Buceto ed Alba Triatica, con le due società già salve che cercano però di chiudere con dignità il campionato di eccellenza. Pronti via a passare in vantaggio al terzo minuto è subito il San Buceto, con la squadra di Ronci che lancia Ranieri, il quale arriva davanti a Verissimo, e lo fredda per il centro dell'1-0. I padroni di casa sono così già avanti al terzo minuto. Si rende pericolosa da calcio piazzato l'Alba Triatica con una bella conclusione, vicina al vertice destro rispetto ai pali difesi dal giovanissimo Didonato. Proprio l'estremo di casa è però attento e devia il tiro mandando in corner. Sempre da piazzato sfiora il gol alla squadra ospite con un pallone che da calcio d'angolo supera Didonato e trova l'incornata di Paravati. La conclusione di testa termina però alta, salvando il vantaggio dei locali. Il San Buceto riesce a trovare il modo di raddoppiare con Ranieri che come al solito è glaciale davanti al portiere Verissimo e con un tiro secco e potente al 22esimo si regala la doppietta. Non passano nemmeno 60 secondi che lo stesso Ranieri dà una dimostrazione di forza oltre che di tecnica e superando l'ultimo centrale dell'Alba Triatica si ritrova davanti a Verissimo e lo batte con un lob. È il 3-0 che vale la personale tripletta dell'attaccante del San Buceto. Continua lo show del San Buceto che solo tre minuti dopo il centro del 3-0 trova addirittura il poker con un bel colpo di testa di Barrow servito in modo praticamente perfetto dall'outmancino. L'Alba Triatica prova ad accennare una reazione ma le disattenzioni della retroguardia ospite sono davvero imperdonabili ed ancora una volta il San Buceto colpisce con la doppietta di Barrow abile a battere in diagonale il portiere Verissimo ed a trovare il centro del 5-0. Per il primo tempo non succede più nulla e con le immagini di Maria Carannante siamo nella ripresa che comincia così come era terminato il primo tempo e cioè con un gol del San Buceto. Stavolta è Mattia Bruni su un ottimo assist di Marfisi a scavalcare il portiere Verissimo ed a portare il risultato su dimensioni tennistiche con il 6-0 del San Buceto. Prova a farsi timidamente vedere anche l'Alba Triatica dalle parti del portierino di Donato con una bella conclusione di controbalzo del subentrato Icramellà. L'estremo di casa para però in presa plastica ed il risultato non cambia. Ancora un tentativo dell'Alba Triatica al 27esimo con il destro di Passamonti che si incunea in una selva di gambe ed arriva dalle parti di Di Donato. La sua parata in due tempi fa in modo che il risultato permanga sul 6-0. Sugli sviluppi di un corner poco successivo gli ospiti sfiorano di nuovo il gol dell'orgoglio stavolta con il giovane Mosella che interviene da pochi passi ma alza troppo il baricentro ed il portiere Di Donato può tirare un sospiro di sollievo. Il match corre così senza altre emozioni verso il triplice fischio finale che regala un successo importante per il San Buceto e permette proprio agli uomini di Ronci di agganciare sul lato sinistro della classifica l'Alba Triatica.